Musica Giada Colucci è la testimonial del marchio Valentino De Laurentiis Giada che cos'è per te la moda? Ma per me la moda è una cosa fondamentale ed è praticamente dentro di me sin da quando sono una cucciola C'è una neonata perché ho vissuto praticamente con il Vogue in mano Cioè sfogliando i Vogue e le riviste di moda Sono una modaiola all'ennesima potenza Adoro tutte le tendenze, adoro guardare i nuovi colori, le nuove situazioni, i nuovi movimenti C'è una tendenza, una moda che ami particolarmente? Ma sì, amo molto la moda, molto rock Cioè mi piace molto il nero però ho usato in una maniera, non il nero che smuore in un certo qual modo Questo abito per esempio? Sì, questo abito per esempio è la mia moda Ovvio non vado tutti i giorni così però sì, mi ci ritrovo molto Un po' donna uccello, un po' bella dark, bella aggressiva, mi piace E anche jeans, magliettine, cose del genere, uso tanto i cappelli Però sì, mi faccio anche una moda diciamo mia in un certo qual modo Però sono sempre con la rivista in mano a guardare Per me è fondamentale, cioè mi ci sento proprio E delle borse di Valentina che cosa ti piace di più? Delle borse di Valentina mi piace tutto praticamente E sono felice di esserne la testimonial E mi piace proprio le forme delle sue borse Dalle borse più grandi che sono bellissime Capienti al massimo, morbide, sono di una pelle spettacolare Poi sono rock e quindi sono perfette per me praticamente Buona serata allora Grazie mille, ciao 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 Ciao